Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, quest'oggi parliamo di Shiba Inu, un aggiornamento importante. Quest'oggi andiamo a vedere cosa sta succedendo tra Microsoft, colosso del mondo del tech, azienda americana, e Shiba Inu. C'è stato un tweet molto interessante da parte di Microsoft che di fatto ha aperto magari a una collaborazione con Shiba Inu. Quest'oggi in questo video andiamo a vedere appunto tutti i dettagli, facciamo qualche ragionamento anche su quelle che sono le possibili intersezioni tra Shiba e Microsoft appunto palesatesi nelle ultime settimane e facciamo qualche ragionamento sempre sul progetto Shiba Inu. Come sempre ragazzi questa è la playlist criptovalute e valute digitali del mio canale, se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video che caricherò ovviamente sul canale e ti chiedo anche di guardare questi video, commentare, lasciare un like. Ovviamente lascia un like anche a questo video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Come sempre ragazzi ora sigla e poi vediamo tutto. La notizia appunto è di un tweet sulla pagina appunto Twitter di Microsoft che riguarderebbe Shiba Inu. Se leggiamo l'articolo da tech.everai.it appunto in attesa di scoprire come sarà il Shiba Inu, il metaverso ufficiale di Shiba Inu della quale ho parlato in un video che ti lascio qui in alto, parliamo appunto di questo tweet di Microsoft di qualche giorno fa esattamente apparso questo. ci sono solo due tipi di cani nei meetings su Teams che è la piattaforma appunto di video call di Microsoft insomma e ovviamente insomma in seguito anche l'account ufficiale di Microsoft diventa legge con il profilo dell'azienda ribattendo che le call su Teams sono dieci volte meglio quando ci sono anche i cani. Ovviamente queste due tipologie di tweet che se potrebbero anche essere forse in qualche modo difficile interpretazione ha scatenato l'universo delle criptovalute, in particolare si potrebbe vedere insomma una sorta di interazione tra Microsoft e in particolare Shiba Inu e Dogecoin che sono quando si parla di DOGS nell'ambito cripto sono le due più importanti ovviamente anche in ambito di capitalizzazione. quelle che possono essere poi le possibili intersezioni tra Shiba Inu in questo caso e Microsoft sono esattamente, entrambe hanno il desiderio di sviluppare progetti in ambito blockchain e metaverse. Sappiamo appunto come riportato in questo articolo nella parte iniziale Shiba Inu ha lanciato qualche giorno fa il Shiba Inu ha lanciato anche la possibilità di andare a opzionare i terreni appunto sul metaverso di Shiba ma sappiamo che anche Microsoft si è mossa in questi appunto ambiti qualche settimana fa di fatto l'acquisizione di Blizzard che è un colosso del gaming viene visto dai mercati come l'opportunità da parte di Microsoft, la volontà da parte di Microsoft di entrare nell'ambito del metaverso. Questo perché evidentemente il metaverso come sappiamo è uno dei macro trend del mercato e sappiamo anche che in questo momento Shiba Inu ancora una volta nonostante ripeto la fase di correzione che sui mercati delle criptovalute si è vista nelle ultime settimane ancora raccoglie molto interesse da parte della community cripto e sicuramente Microsoft potrebbe vedere di buon occhio questa collaborazione con Shiba Inu che va tutta ripeto costruita e va tutta documentata al momento abbiamo però questi tweet e sappiamo che molto spesso questi tweet in ambito cripto oltre a generare dell'hype immediato che può avere un effetto sulla quotazione e mi faccio mi riferisco principalmente ai tweet di Elon Musk in passato con Dogecoin sappiamo che possono poi essere il punto di partenza di eventuali ripeto collaborazioni tra appunto in questo caso Shiba Inu e ovviamente anche Microsoft. Per quanto riguarda Shiba Inu dicevamo dal punto di vista della quotazione non ci sono grandi novità nel senso che dopo il minimo insomma toccato il 21 gennaio Shiba Inu ha dato comunque qualche segnale di ripresa e in questo momento è sempre il 14esimo posto nella classifica dei token più capitalizzati da un punto di vista degli holders è lentamente in salita viaggia verso gli 1,2 milioni di holders come sempre ripeto poi andremo avanti a seguire quelle che sono le vicende di Shiba Inu ripeto tante news per quanto riguarda Shiba Inu nelle ultime settimane per quanto riguarda appunto il metaverso nuovi progetti e appunto i terreni sul metaverso ripeto andremo avanti sicuramente a seguirli poi sul canale come sempre ragazzi vi invito a guardare i video della playlist criptovalute e valute digitali ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate riguardo questa notizia che riguarda Microsoft e Shiba Inu scrivetemelo qui sotto nei commenti e come sempre vi chiedo anche di iscrivervi al canale e di lasciare un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube come sempre ragazzi quindi grazie per aver visto il video fino adesso e come sempre ci risentiamo nelle prossime giornate con nuovi video sempre per quanto riguarda le criptovalute, la finanza decentralizzata e la blockchain ciao e a presto